Lo Stratos di Ion Audio è un apparecchio di riferimento costruito in Austria. È un DAC con stadio di preamplificazione a valvole dotato di due ingressi analogici di cui uno bilanciato e uno sbilanciato. Ha un ingresso digitale USB con possibilità di lettura di file DSD. Lo stadio di guadagno quadra differenziale è composto da due valvole ad alte prestazioni per ciascun canale. È dotato di un alimentatore ad alta capacità, ampiamente sovradimensionato per lo stadio di uscita analogico, con raddrizzamento a ponte, accoppiamento dell'induttanza, più altri due trasformatori di potenza sovradimensionati. Il suono è potente, con una fantastica velocità sui bassi, straordinaria dinamica, ariosità, trama sonora, finemente dettagliata ed eccezionale olografia 3D. Lo Stratos ha uno chassis elegante, finemente rifinito, senza compromessi e un livello di qualità del suono dà riferimento sotto ogni aspetto. Tasso di conversione 32 bit, PCM fino a 192 kHz, 64 DSD, 128 DSD. Vari gli ingressi digitali, un SPDIF, un AES, un ottico, un BNC, un USB, un I2S e ben tre BNC per DSD. ingresso analogico, RCA ed XLR bilanciato, uscita analogica sia bilanciata che sbilanciata, controllo di fase con SPIA monitor, al telecomando e pesa ben 20 kg. Grazie a tutti!